Perché si è giunti a questo punto dopo Trionfi e dopo una Roma come quella di Viola o quella di Sensi? Ma come diceva prima Roberto era tutto un altro calcio, era il calcio del Parun per dirla con Nereo Rocco dove c'era un'identificazione fra la società intesa come personaggi, come personaggi che ci mettevano tutto se stesso con quello che succede oggi, oggi ci sono le finanziarie che gestiscono le società Io di Noiola, insomma anche io mi sono un po' emozionato pur non essendo romanista vedendo quel pubblico che poi è il pubblico che ti dà la passione anche per questo sport e vedendo quel personaggio Io Viola ho avuto l'opportunità di incrociarlo per motivi professionali nella mia vita durante i mondiali del 90 Devo dire una persona umanamente veramente come poche Ecco, questo fa la differenza Oggi girano molti più soldi ma a gestire le società sono le finanziarie dall'altra parte E' una toniera, oggi girano tanti più soldi